Oh, finalmente! La prima volta dell'estate in piscina! Eh già, sono mesi che aspetta questo momento! Bambine, siete pronte? Sì, siamo pronte! Prontissime! Zaino già fatto! E so come mai, quando c'è da andare in un posto dove vogliono loro, sono pronte subito! Eh già! Eccoci, eccoci! Ti raccomando, Mascia, però, eh! Devi ascoltarci! Anche in piscina ci sono delle regole da seguire! Eh? Sì, ok, ok! Però lasciatemi divertire! Oh, mamma, dai, dai! Posso andare in piscina anch'io, ti prego! Dai, non vi dolore! Cavoli, dai! Eh? Eh? Beh, non puoi aspettare ancora un po'. Prima devi metterle la crema solare. Ah, Uffa, io non voglio aspettare, voglio andare subito! Mascia, sei la solita impaziente! Dai, Uffa, sono già tutti dentro! Voglio andare anch'io! Papà! Dai, papà, gonfiammi il salvagente, ti prego! Eh? Eh, va bene, va bene, lo faccio subito! Ah, sì! Finalmente! Ecco qui, il tuo salvagente è pronto! Ora posso tornare alla mia lettura! Allora io faccio un tuffo a bomba e mi butto! Cosa? Oh no, Mascia, il tuffo a bomba no, è troppo pericoloso, sei troppo accaldata! Eh, allora, almeno mi rinfresco! Ciao, ciao, io vado! Aspetta! Mascia, non va bene tuffarsi in quel modo! Anna, forza! Buttami il salvagente e il pallone! Sì, ok! Eccoti qui, il tuo salvagente! E la tua palla! Ora lasciami stare, per favore! Tu non vieni? No, vengo più tardi! Ehi, va! Ciao, Ascia! Dai, vieni a giocare con me, buttati! Sì, osa buttarmi, non ci penso neanche! L'acqua è troppo fredda! Beh, allora, poi ti abitui! Sì, ma il mio corpo è troppo caldo, devo abituarlo piano piano! Vado giù dalla scaletta! Oh, mamma, quante paranoie! Sì, eccomi qui! Brini, che fredda! Dai, Dasha, vieni qui che giochiamo a pallone insieme! Sì, ok, arrivo subito! Ehi, che ti succede? Mamma, papà, Mascia sta male! Cosa? Vado subito! Mi fa male, mi fa male! Su, 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 un po' di massaggi! Ora ti è passato? Sì, ora sto meglio! Te l'avevo detto di non buttarti in acqua così velocemente! Ma cosa mi è successo? Beh, ti è venuto un crampo, perché il tuo muscolo era troppo freddo! Dovevi prepararlo con un po' di stretching! Vi rimasce a ogni luogo le sue regole di comportamento corretto, cosicché non ci si faccia del male! Per esempio, per evitare di scottarsi, la cosa corretta è mettersi la crema solare! E se il sole è troppo forte e i tuoi occhi sono delicati, meglio mettersi un paio di occhiali da sole! E a bordo piscina, se sei senza ciabatte, attenzione a non correre, perché potresti scivolarsi e farti del male! Meglio indossare sempre delle ciabattine antiscivolo! Oh, caspita! Ora ho capito! Dopo tutto quello spavento, mi è venuta una gran voglia di gelato! Oh, Masha, sei sempre la solita! Ciao! Ciao! Allora sia ciabatte, Sous-titrage ST' 501